Steph, aiuto! Viene ad aiutarmi! Che succede, Ferre? Che succede? Corri, Steph! C'è lo zombie che mi sta attaccando! Arrivo, Ferre, arrivo, arrivo! Aiutami, sono a mani nuda e non so per quanto posso resistere, Steph! Eccomi, ci sono! Aiuto! Picchalo, picchalo! Te lo sto picchiando, ma non muore, sto cosa! Ferre, ma cosa ci fanno zombie nel dormitorio della scuola? Ma non ho la più pallida idea! Cosa sarà successo, Steph? Non ho idea! E ragazzi, come va? Io sono Ferre, Niki! E sono Steph, e che stagio chiama Minecraft? E oggi siamo qui in questa scuola e dovremmo cercare di capire cosa sta succedendo, Steph! Perché io mi sono svegliata e ho trovato uno zombie di fronte al mio letto, ma come ti sembra possibile? Beh, è un bel riseglio, Ferre, senza sempre dubbio! Eh, sicuramente, Steph! Io sento un rumore incredibile di zombie, Ferre! Anche io, che non mi piace! Il problema è che siamo disarmati e quindi ho paura di andare a controllare! Aspetta, Steph! Dimmi, Ferre! La faccio io, ok? Ok, vai! E ti faccio sapere com'è la situazione! Sì, vado! Io sto dietro di te! Vado! Aiuto! No, 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 Steph! Steph, vai, pia! Che c'è? Torna dentro, torna dentro! Ok! Non guardare, Steph! Non guardare! Allora, mi sa che oggi abbiamo un piccolo problema, ovvero un'ivazione zombie! Dentro scuola! Dentro la scuola, esatto! Mi sembra una buona cosa! Sì, mi sembra che non è andata così bene! Ok, allora, io esco da qui, mi butto dalla scuola e la faccio finita! Steph, non puoi, non puoi! Dobbiamo combattere qui! Comunque non ti preoccupare, ne ho io armi, Steph! Ah, sì? Ovviamente è nascosta nel mio armadietto e che nessuno sa! Ok! Qui dentro, Steph! Che armi hai, Ferre? Tante armi! Allora, guarda, abbiamo l'imbarazzo della scelta! Io direi che mi prendo una bella mazza! Una mazza di ferro! Sì! Boomerang! E mi prendo anche la palestra! Esatto! Tu ti prendi la lancia e il boomerang! Allora, aspetta! Ok! Aspetta! Prendi anche i blocchi, Steph! Non si sa mai! Possono servire per farci un rifugio! E anche la carne che ho fame! Esatto! Qualcosa del genere! Ferre, 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 ferre! Oddio! Guarda! Maledetti! Iniziamo a usare le nostre armi! Vai, Steph! Ok! Hai visto? Ok! Sono belle le armi, vero? Dicevo, la lancia mi sembra anche abbastanza normale come arma! Ma anzi, contro gli zombie mi piace proprio! Ma il boomerang? Devi provarlo sulla folla, Steph! Quello sulla folla è micidiale! Ma... È micidiale! È divertentissimo da tirare! Aspetta, aspetta, aspetta! Dai, ti ho anche lasciato le armi più divertenti! Non ti devi lamentare! Vai! Devi prenderlo bene! Ma torna indietro! Spero di sì! L'ho perso! Come l'hai perso, Steph? Non torna più! Sei una persona inutile! Meno male che ci sono io con la mia matta! E si è incastrata nelle scale, Ferre! Dobbiamo scendere e stare attentissimi! Ok! Vieni, vieni, vieni! Sì, io sento ancora rumori di zombie! Eh, sì, secondo me... A destra è tutto sfondato! A sinistra è tutto sfondato, Ferre! Come facciamo? Andiamo al piano di sotto? Sì! Dai, dai! Ferre, ferre, ferre! Arrivano zombie! Dove? A quanto pare sono in tutte le aule! No, vabbè, sto un boomerang fa schifo! È rimasto lì! Scendi, scendi, scendi! Scendi, scendi, scendi! Oh, mamma! Oh, Steph! Steph, aiuto! Oh, Dio! Steph, aiuto! Arrivò la nostra morte! Torna su! Torna su! Torna su! Aiuto! Era più sicuro! Ok! Allora, affrontiamoli nelle scale, li facciamo salire, capito, un po' per volta e cerchiamo di dividerli in questo modo! Se solo avessi il mio boomerang! Esatto! Che hai perso, Steph! Non l'ho perso, fa schifo! Se vuoi te ne cerco un altro, eh! No, grazie! Non lo vuoi? Zombie piccolo, lasciami in pace! Sono tanti, Steph! Ne arrivano all'infinito! Eh, lo so, lo so, sono tanti! C'è una bella invasione oggi! Bene, ci dobbiamo muovere, continuano ad arrivare alla finistra! Oh, mamma mia! Aiuto! Arrivano dalla sinistra, capito, capito, capito! Sono troppi, sono troppi! Allora, io corro! Io corro, non mi frega nulla! Ma sei sicuro? Allora, verso adesso è tutto bucato, io vado verso qua! Aspetta! Ti seguo, ti seguo! Per me stanno uscendo da ogni stanza, non è possibile! Allora, corri! Ci dobbiamo rinchiudere da qualche parte! Io vado qui dentro, io vado qui dentro! Oh, mamma mia, Steph! Adesso li sto lasciando tutti a me! Muoviti, che devo chiudere! Aiuto! Ok, ok! Vi possiamo osservare dalle finestre, Steph! Sono tantini, eh! No, no, Fede, io non osservo più niente e nessuno! Mi sto barricando, fammi finire di chiudere tutto! Oh, mio Dio, c'era un piccolino che stava provando ad avrampicarsi! Si sta praticamente attaccando al vetro, cercando di passare in tutti i modi possibili! Dove sono, eh? Dove sono? Dove siete finiti? Dal rumore direi che sono ovunque! Sì, guarda! Salta e li vedi, tutti nel corridoio fermi là, Steph! Non è una bella cosa! Secondo me non possiamo più uscire di qui, Fede! Dici? Quindi ci toccherà... Non te la senti di combattere, Steph? No, Fede! Come facciamo, allora? Studieremo storia per sempre! Ah, ma a me non piace la storia, Steph! Pazienza! Noiosa! Guarda, solo con questi fogli ti puoi studiare storia per qualche mese! Allora, dai, Steph! Facciamo l'interrogazione nel mentre che moriremo in un'invasione zombie! Ma ti sembra un'idea da fare, Steph? Idee belle a cui pensare! Dobbiamo trovare una fuga! No! Non dobbiamo fare lezioni qui, Steph! Scusami! Adesso io ti dico! Siamo in una scuola, ok? Ovviamente saranno stati avvisati la polizia, i vigili del fuoco, eccetera, eccetera! Non verranno mai! Probabilmente sono convinti che tutti gli studenti si stanno salvati! Abbiamo del cibo! Noi siamo rimasti qua come di questi! Siamo barricati! Io resterei qui per sempre, Ferre! No, Steph, dobbiamo trovare una soluzione! Non ti piace? No! Napoleone è noto nel 1400! Che devo fare con te? Che devo fare? Ferre, io mi sono adattato! Allora, tu nel frattempo che perdi tempo, io ho scogitato un piano! Un piano! Scappiamo dalla finestra! Sicura? Sì, Steph! Ma siamo in alto, eh! Sì, sì! Oddio, ci sono anche un bel po' di zombie! Però sì, Steph! Aspetta, fammi andare a controllare un po' la situazione! Ferre, ti rendi conto che... Cioè, appena mi hanno visto, hanno iniziato a correre! Ti rendi conto che se per sbaglio cadiamo, è la nostra fine! E lo so, Steph, però ci siamo chiusi qui dentro! Se usciamo lì fuori, secondo me nel corridoio sono ancora tanti, tanti, tanti! No, sì, allora il corridoio non mi piace! Dobbiamo passare dalla finestra! Oh, ok! Ci stai? Cerchiamo di raggiungere l'altra aula e vediamo se da lì troviamo una fuga, no? Io sto provando a fare una stradina! Ti dico... Ti stai lanciando nel... Hanno molta fame! Ok! Quindi stai attenta! Allora, io ho una paella! Aspetta, aspetta, aspetta! Ferre, 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 ferre! Io ho dieci biscotti! Tenete! No, Steph, vogliono il tuo cervello, non i biscotti! Allora, stessa carne! Lo so che il tuo cervello è come un biscotto, però non va bene! Steph, la smetti di importunarli? Beh, io ci sto provando a distrarli in qualche modo! Mi stavi spingendo, ma sei pazza! Perché voglio fare qualcosa di utile! Che fai? Li prendo col... Non dirmi che ho presa a te! No, Steph, non ti posso aver ucciso! Dai! Ho mirato in basso! Ma come? Lo so che la mia mira non è delle migliori, ma... Allora... Io me ne vado! Ok, dai! Ok! Allora, c'è un problema! Dimmi! Ci sono un sacco di zombie dentro! Ma come un sacco? No, Steph, affacciati! Vabbè, qua sotto lo sappiamo entrambi! Il discorso è che ce ne sono anche qui dentro! Ok! Allora, io apro... Quanti sono? Stavo per cadere! Ok, quanti sono? Sono tipo 4, 5, una roba del genere! Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare! Andiamo? Entra! Correndo! Urlando pure, Steph! Alla carica! Ok, bravo! Così va bene! Questo è lo spirito giusto! Ok, uno l'abbiamo steso a fare di te! Ne sta arrivando anche uno piccolo! Allora... Sono tantissimi entrano dalla porta! Bisogna tappare, Steph! Ci penso io! Bisogna tappare! Tu pensa tappare! Ok? Ok? Difendimi! Sto morendo! Ce la faccio! Ok? Ok, piano piano! Sto bene? Ok, il piccolino ce n'è con me! Mori il piccolino! Ok, sono morti tutti! C'è fatta? Sì! Oh, mamma mia! Mangio, 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 mangio! Mi son seduto! Come ti sei seduto, Steph? Mentre mangiavo, mi son seduto per sbaglio! Allora, fammi finire di chiudere qua per sicurezza! Ok, Fede! Che ansia! Allora, siamo riusciti ad andare dove volevi andare! Mi spieghi? Adesso... Cosa è successo? Sotto è sempre peggio! Sempre peggio? Sì, 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 sì! Dicevo, mi spieghi a che cosa serve essere andati nell'info... Ah! Ah, perché abbiamo il computer e possiamo chiedere aiuto! Ma io non penso che ci sia internet! Penso che anche tutte le connessioni siano morte, vero, Steph? Sì, qua ci sono... C'è qualcosa? Noti qualcosa? Sei su Facebook in questo momento? No, sono lucine colorate! No, chiaramente sei su Facebook! Sembra più PianoTiles, capito? Una roba del genere! Quindi no, non possiamo chiedere aiuto, Fede! Ho appena notato una cosa, però! Dimmi! Sono rimaste delle auto nei parcheggi! Faivi vedere! Uh! Eh, qualcuno probabilmente l'ha lasciata qui nella foga dello scappare! Probabilmente si è dimenticato l'auto! Che facciamo? Proviamo a trovare la chiave? Allora, secondo me le chiavi potrebbero essere state lasciate qui da qualche parte! Quindi inizia a cercare un pochettino perché magari troviamo una chiave di un'auto! Non so poi come ci arriviamo, ma non ci voglio pensare adesso! Vabbè, ci penseremo dopo, Steph! Sappiamo che ci sono, poi troviamo il modo di arrivarci! Allora, qui nell'acqua? Ok, cerca un po' in giro! No! Nella cattedra? La cassettiera, Steph! Dov'è? Questa, questa, questa! Fai vedere? Eccola qui, eccola qui! La prendi tu perché sai come io non voglio guidare! Lo so! Pensaci te, Steph! Sì, e io non voglio stare in un'auto che vivi tu! Io ho trovato le auto, tu la devi guidare! Ok, quindi abbiamo la chiave con 27 blocchi! Non so se possiamo arrivare fin lì perché pensavo di fare un ponte! Però ci seguono gli zombie, Fede! È difficile, eh? Non conviene combatterli piano piano, Steph, no? Con la tua balestra? Sì, esatto, è una buonissima idea! Vedi, bravo! Mi piace quando proponi queste belle idee! L'idea peggiore dell'anno! Inizio, Steph, guardami, inizio! No, per... Tieni laggiù! Guarda! Io mi nascondo! Vado! Ok, uno preso! Sì, 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 bravissima, Steph! Non ci crederò mai! Tu hai preso! Io sono nascosto qui! Oh, Steph, tre frecce! Anzi, no, tre dardi, scusami! Tre su tre! Nessuno le ha viste, quindi non è vero! Tre su tre! Ma li vedi che mi seguono? Vai, Steph! Ti copro con la mia formidabile balestra, vai! Vai, Steph! Ok, cerca di ammazzarne! Eh, li sto uccidendo, guarda! Se riesci a diminuire un pochettino il numero degli zombie, hai già fatto un lavoro decente! Ok, va benissimo, ce la sto facendo! Perché loro continuano a guardarmi, cioè mi vogliono mangiare! Ti vogliono assaggiare! Allora... Ti vogliono rendere uno zombie! Sono vicino alle auto, Fede! Ok? Sono molto vicino alle auto! Ho finito i blocchi! Come hai finito i blocchi? Aspetta, qualcuno è avanzato anche a me, tieni! Dovrebbero bastare! Vado! Il problema, Fede, è che non me ne hai ammazzato molti di questi zombie! Eh, perché ogni freccia è uno zombie! Non è che è una bomba, sta cosa! Beh, sì, in effetti! Guarda quanti sono! Servirebbe una bomba nucleare in questo momento! È difficile, poi! Allora... Anzi, ma è semplice, perché tu prendi la... Steph, ci stanno distruggendo un'auto, secondo me! Ci hanno dato! Speriamo che la chiave sia di quella messa bene! Eh, allora, Fede... Ma che facciamo? Scendiamo? Vieni qui, vieni qui, vieni qui, avvicinati a me! No, aspetta! Fede! Non è una buona idea scendere, Steph! Come facciamo? Fede, ascoltami! Dimmi! Io continuo, eh! Però ti ascolto, vai! No, ma mi riguarda in faccia! Ok, mi riguarda in faccia! Questo è il nostro momento! Qui ci giochiamo tutto! Tu corri da una parte, li attiri e io prendo l'auto e me ne vado! No, Steph! Ti prometto che se tu continui a seguire la strada, quindi l'autostrada che stai vedendo... Qual è l'autostrada? Ok, vado dritta! Tu segui tutta la strada, io ti prometto che cercherò di venire a prenderti! Sei pronta? Vado! Vai, Fede! Ma aspetta, quanto danno prendo, secondo te? Più o meno metà vita! Come metà vita? Sì, devi essere piena col cibo! Hai mangiato? Sì! Corro! Corri, Fede! Devo aspettare, stanno strascinando pure un'auto, Fede! Sono pazzi! Aspettali, 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 perché altrimenti vengono da me! Aspetta, sto tornando indietro! Steph, questa è la fuga più triste che abbiamo mai visto! Dai! Ce l'ho andata come di nuovo! Forza! Io vado! Io vado! È il mio momento! Geronimo! Per far partire un'auto, Steph? No! Come no? Eccole, è accesa almeno! Mi hanno picchiato! Steph, mi hai abbandonato! Fede! Steph, non so per quanto ancora potrò resistere! Il terreno è arrivato! Muoviti! Ho trovato di zombie dietro! Raggiungimi! Ok! Aiuto! Ok! Vai veloce! Vai, corri! Corri! Fa molto ridere il fatto che stiamo usando questa... Nel frattempo è che è cambiato colore l'auto, Steph! Hai avuto tempo di riverniciarla? Ma dimmi te! Dato che eravamo tranquilli, oggi era una bella giornata! Per riverniciare l'auto! Mere, non so dove passare! No, no, dobbiamo... Ah, perché ho intasato la strada, in effetti! Sì, Steph! Sì, mi tocca ripassare di Dio, mio Dio! Li possiamo investire? Non credo! Non credo proprio! Non credo, finché ce la facciamo! Vai! Mi hanno picchiato malissimo! Mi hanno picchiato malissimo! Oh no! Oh no! Oh no! Lasciateci in pace! Addio! Arrivederci! Ce l'abbiamo fatta! Vedi che la scuola è un brutto posto? Sì, è un bruttissimo posto, Steph! Molto benicoloso! Ma è pieno buco! Ma il mondo è diventato terribile! Sperate che... Lasciateci un like! E se la prima volta che vedete il nostro video potete considerarli da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, alla prossima!